Si è spento Luigi Tegliaferri, un protagonista della vita politica di Piacenza, un signore della politica. Dal 63 al 68, poi dal 68 al 72 fu parlamentare, impegnato, diligente. Nella nostra città ricoperto molti incarichi di prestigio nell'ambito delle istituzioni, presidente IACP dell'AMPI, presidente della provincia nel 1980. Dall'85 al 90 fu a Palazzo Mercanti. Fu presidente dell'Associazione Piacentini nel mondo. Luigi Tegliaferri è stato sempre uomo di grande impegno. In tutte le situazioni ha proposto e promosso idee. Con passione aveva affrontato i problemi dei piccoli paesi della collina e della montagna, attraverso il dialogo costante con i residenti. Politico coerente, stimato dai colleghi di partito, stimato anche dagli avversari con cui aveva rapporti cordiali. Sapeva dialogare, mai gridare, sapeva sorridere. La sua testimonianza è viva. Continuano, continueranno ancora alcune sue iniziative per la montagna, per gli emigrati. Tegliaferri intendeva la politica come servizio.